A bete, legnami e infissi, il massimo per qualità e convenienza, presenta gli highlights del campionato d'elite ASME. Il Maccabi dopo la sconfitta interna contro il Montagnola vuole rialzarsi e cerca la vittoria contro uno sportuno fermo a 10 punti in classifica. Buonasera dal Trastevere Stadium per la dodicesima giornata del campionato d'elite. Salgono le torri, Fiorentini chiama lo schema, eccolo il traversone al centro per la stoccata in porta. Il vantaggio del Maccabi quando è passato solamente un minuto sul cronometro del direttore di gara. 1-0, 7 ad aspettare il pallone, l'1-2 che riesce, prova ad andare in profondità spizzichino. Marco Fiorentini in porta, alto sopra la traversa, il tentativo del numero 11. Ciannocco, sale Piperno che chiede il pallone, eccolo ha servito Piperno, può prendersi il fondo, prova ad andare al centro. La mette fuori in qualche modo, Biondi sul pallone, la recupera, il tentativo dalla distanza con i piedi di Giorgio. Per Fiorentini, chiuso le due avversari con l'esterno, si appoggia sulla destra, il traversone messo al centro, la girata sul fondo. Ottimo tentativo di Alessio Gioia. Piperno, punta l'avversario, entra in area di rigore, va sul fondo, la mette al centro. Un tiro cross che non viene impattato da Fiorentini, che non trova neanche lo specchio della porta e si perde sul fondo. Lo tira fuori all'area di rigore, Gioia, lotta, ancora in possesso lo sport 1, fase confusa, al limite dell'area di rigore, Orini prova a liberarsi. Si entra, ancora il numero 16, Orini va in porta, prima occasione sport 1, quando siamo quasi giunti al termine del primo tempo. Non lo serve, prova ad andare al centro dell'area di rigore, Bondi. Spizzichino, Fiorentini ancora verso Spizzichino, che va in porta con le mani di Giorgio in calcio d'angolo. Duplice fischio, la prima frazione si conclude sull'1-0 in favore del Maccabi. Alessio Gioia. In profondità, Marco Fiorentini al centro dell'area di rigore, può controllarla, va in porta, sul fondo però. Sull'esterno della rete la conclusione del numero 11. Fiorentini, Gioia, il cambio di gioco a cercare Marco Piazza-Sed, che la stoppa con l'esterno del piede. Sed, la sposta al centro del campo, sul suo piede preferito, fuori per Spizzichino. La conclusione deviata, si allunga di Giorgio, che parata del numero 1, che salva il risultato, ancora in partita lo sport 1. Bondi, rientra sul destro, potrebbe andare in porta. Il suo piazzato, con i piedi di Giorgio, a respingere la conclusione del 14. Poi la difesa riesce a liberare, un'altra occasione, questa volta altissima. Che raccoglie per il lema a cabbie e riparte, Piperno. Capitan Veneziani. Prova direttamente in porta, alto anche il suo tentativo. Calcio all'angolo dalla destra, ultimi secondi, sale di Giorgio, il traversone è per lui, la sfera che viene messa fuori dall'area di rigore. Melis, salta un avversario, prova ad andare in porta, riesce comunque a bloccarla. Il portiere numero 1 del Maccabi. Decide di servire ancora una volta Piperno, che prova il traversone, il colpo di testa e arriva il 2-0. Quando siamo ormai giunti alla fine di questo match, segna Capitan Veneziano. Arriva il triplice, fischio del direttore di gara, il Maccabi tra le mura amiche, supera 2-0 lo sport 1 e conquista i tre punti.